Benvenuti a tutti amici di Radio Puggino NER. Oggi vi portiamo le ultime notizie dal mondo della musica italiana e non solo. Parleremo di un evento che sta già facendo parlare di sé e che promette di essere uno dei momenti clou di questa stagione estiva, il Radio Z Future Eats Live, ma prima una notizia che ha fatto discutere molto nelle ultime ore. Fedez, il celebre rapper italiano, ha deciso di non partecipare al nuovo programma di Alessandro Catlan. Per motivi di salute. Una decisione che ha fatto molto rumore considerando la popolarità di entrambi gli artisti, ma non temete fan di Fedez perché abbiamo buone notizie per voi. Nonostante l'assenza dal programma di Catlan, Fedez sarà presente al Radio Z Future Eats Live che si terrà il 31 maggio a Roma. Sarà una serata indimenticabile e sul palco con lui ci sarà anche Emi Schilla, con cui ha recentemente firmato un nuovo singolo. Dunque, forse lo ascolteremo in questa occasione in anteprima. Siamo ancora in attesa di altre notizie su questo singolo. Ne ve l'abbiamo anticipato, ne abbiamo parlato proprio ieri. La loro partecipazione al concerto non solo conferma che Fedez sta bene, ma ci promette anche una performance da urlo. La vicenda ha alimentato molte speculazioni nei giorni scorsi. Alcuni ipotizzavano che il rapper avesse evitato il programma. Da vicino nessuno è normale. Per non rispondere a domande scomode sulla vicenda Iovino. Altri sostenevano che fosse stata la RAI stessa a bloccare la sua partecipazione. Ma la RAI ha prontamente smentito queste voci. Così come lo stesso Fedez che su Instagram ha criticato duramente il modo in cui la stampa italiana diffonde e poi smentisce le notizie senza adeguate verifiche. Ha detto Fedez, mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo. Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No, ha scritto Fedez sul suo profilo. Fedez ha rassicurato anche i suoi fan sulle sue condizioni di salute dichiarando di stare bene. Infatti proprio in questi giorni è stato avvistato a Monte Carlo per un evento legato a Bohem, la bevanda lanciata un anno fa insieme a Lazza. Ma ora torniamo al grande evento del 31 maggio in Radio Z Future Eats Live. Fedez ed Emiskilla si aggiungono a una line-up straordinaria che include anche nomi tra i più amati seguiti dalla generazione Z. Ascoltate un po' chi ci sarà. Rain, Paolo e Chiara, Rov, I ricchi e poveri, Rocco Ant, Rose Villen, Sara, Tananai, The Colors, Tony F e molti altri. Quest'anno il Radio Z Future Eats Live sarà dunque presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento con una line-up stellare che promette di farci ballare e cantare tutta la notte. Tra le novità di quest'anno ci saranno un parterre in piedi e una produzione audio e video all'avanguardia per offrire al pubblico un'esperienza musicale davvero immersiva e coinvolgente. Dunque segnatevi la data a venerdì 31 maggio al centrale del Foro Italico di Roma. Non perdete l'occasione di vedere dal vivo i vostri artisti preferiti, tra cui il nostro Fedez, che nonostante le voci e le polemiche è pronto a tornare sul palco più carico che mai. E con questo vi salutiamo amici di Radio Pugginio NER, restate sintonizzati per altre notizie, aggiornamenti e ovviamente tanta buona musica al prossimo episodio di Radio Pugginio NER.